Ce l'ho fatta, sono arrivato ai giardini nel Lussemburgo, c'è Matteo che mi aspetta e mi dispiace tanto per lui ma... Porca vacca che male, ha la schiena vacca boia, allora guardate qua che roba, eh? E scusa se è poco, adesso purtroppo l'unica parte che io posso filmare è quella asfaltata, adesso vi trovo in una zona non asfaltata, ok?